Seconda parte del tutorial dedicato a Focus. Primi passi nell'interfaccia e consigli iniziali. Benvenuti alla seconda parte del tutorial dedicato a Focus. Oggi vedremo il primo avvio del software e inizieremo a generare le prime immagini. Introdurremo l'interfaccia e vi fornirò alcuni consigli, per iniziare con il piede giusto nella generazione di immagini. Contrariamente a quanto detto nel primo video, Il supporto AMD è presente, ma la memoria minima della GPU deve essere di 8 GB rispetto alle schede video Nvidia. Dal sito Focus menzionato la volta scorsa, e che trovate sempre in descrizione, potete reperire ulteriori informazioni sulle altre configurazioni o combinazioni di sistemi operativi. Come vediamo qui, utilizzando la sola CPU con allocazione di memoria RAM, sono necessari fino a 32 GB, ma con prestazioni decisamente inferiori. Nell'area cerchiata in rosso è stata fatta una comparazione delle schede video Nvidia RTX 3000, dove se utilizziamo il processore, con 32 GB di memoria allocata, abbiamo in media 17 volte meno prestazioni. Come vi dicevo la volta scorsa, il software è avviabile in tre modalità diverse a seconda delle vostre necessità. Il primo file RAM.bat è quello generico, nel caso in cui vogliate generare immagini generiche. Le altre riguardano la generazione di anime. Immagini stile cartone animato. Il file ananime. E realistic, con il file nrealistic. Che è quella che io utilizzo sempre, perché che garantisce immagini più realistiche. Tutte le modalità sono in grado di generare immagini di qualsiasi tipo con il prompt giusto e caricando dei modelli appositi, chiamati checkpoints. Al primo avvio, il software scaricherà automaticamente dei checkpoints. Vediamo in cosa consistono. Un modello checkpoint è essenzialmente un modello di stable diffusion, che è stato addestrato per facilitare la produzione di immagini con un'estetica specifica. In pratica, l'intelligenza artificiale è stata pre-destrata per riconoscere determinate immagini. Tenete presente che ogni modello è molto grande da scaricare e occupa in media fino a 6 GB di memoria. Occorre quindi un po' di tempo per fare in modo che il software sia operativo. Dipende molto dalla velocità della vostra connessione Internet. Esistono modelli generici come quelli qui indicati, oppure modelli specifici. In pratica, con questi modelli base precaricati inizialmente, il software viene instradato meglio sul tipo di immagini da realizzare. Esistono ulteriori refiner, che vedremo più avanti che potete scaricare da siti specializzati. In modo gratuito. A seconda della tipologia di file che aprite per avviare il programma. Focus scaricherà il modello predefinito. Juggernaut se aprite il file .bat generico. Realistic Photo, per la versione realistica. Ed infine Anima Pencil, per la versione anime. Una volta che tutto è pronto, il software si avvia. Questa è la schermata principale, dove la finestra più grande genererà l'immagine. In basso abbiamo lo spazio per il prompt di testo. E sulla destra, il tasto genera. Proviamo a creare la prima immagine scrivendo. Un cane maltese. È un testo semplice. E lì a, inizi a generare l'immagine in base al nostro testo. Come vedete, il software è preimpostato inizialmente per generarne due alla volta con un formato immagine specifico. Proviamo ad aggiungere ulteriori dettagli. Un cane maltese vicino al camino in una baita in pieno inverno. Come vedete, aggiungendo dettagli l'intelligenza artificiale, non riesce a generare correttamente quello che vogliamo. Scrivere il testo in italiano può a volte limitare la generazione. Meglio allora dotarsi di un traduttore automatico come ad esempio Google Translator o Deep L. Avendo scaricato Deep L in versione desktop, è possibile richiamarlo comodamente dall'interfaccia di focus. Proviamo a rigenerare l'immagine tradotta a maltese dog close to a fireplace in a chalet in the middle of winter. Ci siamo! Ora il nostro cagnolino. Nella seconda immagine con il prompt in inglese è persino un cappottino invernale. Proviamo ad aggiungere ulteriori dettagli. A maltese dog close to a fireplace in a chalet in the middle of winter. Snow outside the window. In questo caso, per la prima volta, ho lasciato la generazione delle immagini in tempo reale. Così vedete i tempi di elaborazione reali. Con la prima immagine direi che ci siamo. Con la seconda, purtroppo, manca decisamente il camino, anche se è presente la legna di fianco al cagnolino. Come vedete, il formato dell'immagine è assai limitato per rappresentare al meglio un prompt così dettagliato. Ecco che entrano in gioco gli altri controlli per estendere le funzionalità di focus. Clicchiamo su Add Est. Ora abbiamo decisamente più parametri da dover scegliere. Concentriamoci su alcuni di essi. Prima di tutto, le immagini generate prima sono state effettuate con il parametro speed. Velocità è un parametro intermedio. Scegliamo qualità per avere più dettagli mentre Extreme Speed è un'ulteriore velocizzazione. In questo caso, le impostazioni di qualità richiedono dei tempi di elaborazione maggiori. Fino a 60 cicli di elaborazione rispetto alla metà di prima. Velocizziamo un pochino il video per generare la seconda immagine. Sulla sinistra possiamo scegliere delle risoluzioni dell'immagine più grandi. Il rapporto 21-undicesimi ci garantisce una immagine a pieno schermo. Come vedete, le dimensioni riguardano width per height, ossia larghezza per altezza. In questo caso abbiamo deciso di elaborare una sola immagine alla volta. Vediamo generazioni di una sola immagine con risoluzioni differenti. Se i risultati non fossero ciò che vogliamo rappresentare, ci basta rigenerare all'infinito. Ogni immagine sarà sempre salvata sul nostro PC. Bene, abbiamo terminato. Vi lascio una carrellata delle immagini generate in questa puntata. Anche quelle che non soddisfavano il nostro prompt. Ci sarà anche un altro compagno di giochi. Buon ascolto e buona visione. Alla prossima! Buon ascolto e buona visione! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.